I vasi in testa poi diventano i vasi di Sozzas, o delle opere d'arte di Brancusi diventano dei vasi o altre cose. O come la cultura americana di Topolino venga riassemblata in un vaso di Sozzas senza che lui se ne accorgesse. O una foto di Andy Warhol con la sua cinepresa. Tutto questo è diventato questa stanza e la forza del lavoro di Sozzas per me è che considerava inagirabile il fatto di ricordare di essere connessi al corpo e alla terra. Cioè in qualche modo accettare il fatto di essere legati alla terra ci consente, con tutti i limiti che comporta, l'unica possibilità di guardare al cielo. Senza i piedi radicati a terra non possiamo immaginare, perché l'immaginazione volerebbe. Ed è per questo che il legame alla terra per Sozza e il suo attaccamento rappresenta per me un nuovo stimolo per progettare e imparare a vedere il presente. Vi ringrazio. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.